Musica Temperature gelide in Val Daveto, nella notte sul Monte Bue meno 12 gradi, in mattinata a Rezzo Aglio meno 10, la situazione comunque è sotto controllo, la viabilità è regolare. Aule vuote all'Istituto di Ambrosi Snatta di Sestri Levante per il freddo, il termometro questa mattina segnava 14 gradi e gli alunni hanno deciso di non entrare a scuola. Forte impatto del virus influenzale, l'incidenza sulla popolazione è tre volte superiore rispetto a quella dello scorso anno. Un caso di meningite da pneumococco al pronto soccorso di Lavagna, il paziente, un uomo di 43 anni, è stato portato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di La Spezia. Pagamento dei pedaggi per le autoambulanze non in servizio di emergenza, la regione Liguria chiede un confronto con la società autostrade. Il Papa mette in guardia dai falsi idoli, continuando la catechesi sulla speranza cristiana, evidenzia che molte persone ripongono fiducia nelle ideologie, nelle ricchezze, nella vanità. Preparativi a Savona per l'ingresso del nuovo vescovo Calogero Marino, prima dell'ingresso ufficiale farà tappa al santuario di Nostra Signora della Misericordia. È rientrato a Genova Don Fulli d'Ora Grossa dopo quattro anni di missione a Cuba, ora è parroco del popoloso quartiere di Oregina. Questa sera sarà ospite della rubrica Missione Mondo. Un mini presepe realizzato con capsule di medicinali ha vinto il concorso al santuario di Sant'Antonio a Chiavari. L'autore è il giovane Andrea Monti, farmacista di professione. Signori all'ascolto, buonasera da Alberto Viazzi che conduce in studio questa edizione del telegiornale, in regia Giovanni Castello. L'apertura è dedicata a questo gelido mese di gennaio, anche questa notte ci sono state temperature molto basse. Ci concentriamo sulla Val Daveto, meno 12 gradi sul Monte Bue, meno 11 a Prato della Cipolla, meno 10 a Rocca Daveto. E per quanto riguarda Rezzo Aglio, questa mattina ancora meno 10 gradi, segnava il termometro. Ci colleghiamo in diretta per un aggiornamento con il sindaco di Rezzo Aglio, Daniele Mareschi. Buonasera. Sì, buonasera. Situazione attuale, temperature e neve eventualmente? Allora, questa sera le temperature non sono particolarmente basse, siamo appena a qualche grado sotto lo zero. La neve è attesa, almeno teniamo qualche fiocco nella nottata, speriamo. Per il resto fa freddo, fa freddo da molti giorni, con temperature che si aggirano, appunto, meno 10, meno 12, meno 14, anche se poi, a dire la verità, non sono temperature del tutto inusuali per la nostra valle in questo periodo. Quindi problemi, diciamo, disagi particolari non ce ne sono stati. Quindi per quanto riguarda intanto la salute delle persone non ci sono segnalazioni di malori o disagi? No, no, no. E invece per la viabilità è tutto regolare? C'è qualche pericolo per il ghiaccio? No, per la viabilità è tutto regolare, ovvero necessario intervengono i mesi spargissale, comunque la viabilità è garantita, utilizzando chiaramente le normali cautele che si sono utilizzate a periodo invernale. Ecco, però non risultano strade ghiacciate e impercorribili, quindi assolutamente la viabilità è normale. Situazione sotto controllo, quindi, lei accennava per Rezzo Aglio e per la Val d'Avito è normale nel periodo invernale, arrivare a queste temperature. C'è la sensazione però che questo inverno possa essere più freddo e più prolungato rispetto agli inverni precedenti? Le previsioni sono di freddo per tutto il mese di gennaio, quindi la sensazione c'è. Speriamo che venga un po' di nera, insomma, anche quello. E allora vediamo per i prossimi giorni e per il prossimo fine settimana, grazie per il momento a Daniele Mareschi, sindaco di Rezzo Aglio, per l'intervento in diretta telefonica. Buonasera. Proprio a causa del freddo veniamo in costa, dove comunque le temperature sono state basse. Questa mattina all'istituto De Ambrosis Natta di Sestri Levante, gli alunni hanno deciso di non entrare a scuola e quindi le aule scolastiche sono rimaste vuote. Ora si sta cercando una soluzione per i prossimi giorni, già domani si dovrebbe tornare alla normalità, ma sulla caratteristica di questa situazione abbiamo raggiunto telefonicamente la preside Paola De Vincenzi. Dopo le vacanze natalizie per gli studenti è sempre duro il ritorno a scuola. Duro e freddo perché le aule vuote non sono state riscaldate per vari giorni. L'impatto gelido di lunedì non si è attutito nei giorni successivi all'istituto De Ambrosis Natta di Sestri Levante. La città metropolitana di Genova ha autorizzato infatti l'apertura dei caloriferi 24 ore al giorno, ma si è verificato un problema. Molto probabilmente tutto il sistema così attivato è andato in blocco e quindi questa mattina abbiamo ahimè constatato che ad esempio a piano terra tutta la zona degli uffici era il gelo. I piani superiori avevamo delle situazioni alterne, quindi alcuni ali dell'edificio scolastico erano temperate e quindi c'erano delle condizioni per poter svolgere l'attività e altre invece erano completamente al gelo. Di fatto oggi gli studenti non sono entrati a scuola? Oggi gli studenti non sono entrati a scuola, nel senso che la scuola era aperta come presidio, abbiamo spiegato la situazione, peraltro il loro comportamento è stato molto corretto e equilibrato, anche in questi due giorni precedenti hanno compreso la situazione, hanno sopportato nei limiti del possibile, però giustamente se la temperatura scende al di sotto di un certo livello non ci sono sicuramente le condizioni per svolgere l'attività didattica. La temperatura all'interno dell'Istituto di Ambrosi Snatta mediamente si è attestata su 14 gradi, ovvero 4 in meno rispetto al minimo previsto dalla legge per lo svolgimento dell'attività didattica. Attualmente funzionano nuovamente gli impianti di riscaldamento? Allora, attualmente siamo sempre in una situazione, diciamo, aggroviera, c'è in alcuni punti sì, in altri no, però io confido nell'intervento di avere competente, altrimenti domani siamo sempre nella stessa situazione, spero vivamente che le cose si possano risolvere e domani mattina riprendere normalmente le nostre attività. A Rapallo, viste le condizioni atmosferiche, il Sindaco ha autorizzato ad ampliare l'accensione degli impianti di riscaldamento pubblici e privati da 12 a 16 ore giornaliere. L'ordinanza è valida sino al 23 gennaio. E naturalmente questo freddo sta portando a un picco dell'influenza. Sentiamo nel prossimo servizio l'esperto Giorgio Zoppi. I dati parlano chiaro. L'influenza 2017 metterà a letto milioni di italiani. Alcuni hanno già pagato lo scotto di una patologia che si è presentata più precocemente, già sul finire dello scorso anno, con caratteristiche più aggressive. Il virus ha circolato poco negli anni scorsi, per cui una larga parte di popolazione è scoperta dai anticorpi e si ammala con maggiore facilità. L'incidenza maggiore tra i bambini e le persone al di sopra dei 65 anni, per le quali possono esserci conseguenze più gravi. Diciamo, quello che è il rischio, soprattutto negli anziani, è che da questa forma influenzale, con questi sintomi, si possa trasformare in qualcosa di più grave. Quindi, non so, la polmonite, per esempio, influenzale, è la complicanza più frequente che possiamo riscontrare nelle persone che hanno problemi di salute. L'influenza si presenta con febbre, anche molto alta, per due o tre giorni, dolori articolari, tosse insistente. Uno dei fattori di rischio per chi contrae il virus è che possa degenerare in polmonite, motivo per cui prosegue, sino a fine mese, la vaccinazione antipenomococco. Il dato significativo, in stagioni epidemiche come quella attuale, è quello dei decessi per complicazioni legate all'influenza. Da 4 agli 8 mila persone moriranno a causa di complicanze di questa malattia. Sono persone anziane, sono persone delle più fragili, che, diciamo, se colpite, soffrono sicuramente, possono soffrire di complicanze che possono portare al decesso. La vaccinazione costituisce un buon deterrente, ma per chi avesse contratto il virus, i rimedi sono semplici e di facile attuazione. Isolarsi. Si lavi spesso le mani, perché anche questo è un buon sistema per ridurre l'incidenza. Non intasi i pronti soccorsi. Contattare il proprio medico curante, comunque, che saprà dare tutte le indicazioni. Non fare corso smudato agli antibiotici, perché l'antibiotica non è necessaria, ma solo sintomatici, antipiretici, eccetera. Qualche giorno di isolamento, nella grande maggioranza dei casi, è sufficiente per guarire. Sempre per la sanità, l'altra emergenza di questo periodo è la meningite. Oggi al pronto soccorso di Lavagna sono stati affrontati due presunti casi di meningite. Un primo ricoverato, un uomo di 59 anni, non è risultato affetto dalla malattia, ma da encefalite virale ed è stato portato nel reparto di neurologia dell'ospedale di Lavagna. Il secondo caso riguarda un uomo di 43 anni per il quale è stata fatta la diagnosi di meningite da pneumococco. Il paziente è stato trasferito nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di La Spezia. Vi ha segnalato che si tratta in ambedue le situazioni di forme non contagiose, pertanto non è necessario effettuare la profilassico negli antibiotici. E ora parliamo sempre di sanità. Da un anno circa, le pubbliche assistenze, quindi le autoambulanze che non sono in servizio di emergenza, in tutta Italia devono pagare il pedaggio autostradale. Ora la Regione Liguria vuole capitanare un'iniziativa per cercare di risolvere la situazione e ha chiesto un incontro alla società autostrade. Esprime parere positivo Fabio Mustorgi, Presidente della Croce Bianca di Rapallo. 218 mila euro che per una piccola realtà potrebbero provocarne la chiusura. La cifra corrisponde al mancato pagamento dei pedaggi autostradali da marzo 2015 a ottobre 2016. Dal primo gennaio 2015, infatti, Società Autostrade non concede più il transito gratuito alle ambulanze che non sono in servizio di emergenza. Un provvedimento incomprensibile per le pubbliche assistenze del Tiguglio. La legge che disciplina l'esenzione per le ambulanze e i mezzi di soccorso al pedaggio autostradale è del 1993 e ci siamo ritrovati ad un'interpretazione che è cambiata da circa due anni. Non si capisce perché quando i servizi sono sempre a favore dei cittadini malati tutte cose che vengono considerate di pubblico servizio a favore della gente. La zona del Tiguglio è la più colpita. Le ambulanze che portano i pazienti sul territorio devono prendere per forza l'autostrada. Il problema peggiora se occorre raggiungere Genova. C'è un rischio che la norma di Società Autostrade comporta che le pubbliche assistenze dichiarino un falso dicendo che sono tutte emergenze svelendo però lo spirito del servizio. La Croce Bianca di Rapallo non ha inteso assolutamente cadere in questa situazione di ambiguità. Ora, non capiamo perché un paziente che ha bisogno di una terapia riabilitativa se portato dalla Croce Rossa è esentato dal pagamento delle autostrade se portato dalla Croce Verde dalla Croce Bianca eccetera dovrebbe pagare l'autostrada. È evidentemente un qualcosa di incomprensibile e che secondo noi viola la legge. Ieri in Regione l'assessore Viale si è impegnata ad aprire un tavolo di confronto con Società Autostrade. Non ha neppure escluso l'ipotesi di chiusura dei contenziosi in corso anche con una soluzione una tantum della quale potrebbe farsi carico l'ente regionale. Speriamo che da questa prima dichiarazione seguano poi dei fatti concreti. Io mi aspetto al più presto una convocazione per un tavolo tecnico per approfondire. Restiamo a Rapallo dove è in corso il dibattito sul piano urbanistico comunale. L'ASCOM propone alcune soluzioni. La realizzazione di un eliporto i sottopassi in via Milano e in via Torino l'allungamento della passeggiata mare nuovi posti auto sotto il campo di calcio in zona stazione e posti auto sotterranei nell'area del lungomare. L'ASCOM chiede anche di destinare la zona di San Pietro a uso fieristico di vincolare i cinema Grifone Italia a uso polivalente e congressuale e di vincolare a uso di parcheggio lo spazio dell'ex chiesa di Sant'Anna. L'ASCOM vuole proseguire il confronto su questi temi con l'amministrazione comunale. E ora siamo agli argomenti di carattere ecclesiale il Papa nell'udienza generale in Vaticano ha continuato la Catechesi sulla speranza cristiana. La Sacra Scrittura ha fatto notare il Pontefice mette in guardia contro le false speranze e smaschera gli idoli nei quali l'uomo è tentato di riporre la sua fiducia. La vera speranza si fonda su Dio il ricorso agli idoli è insensato. Il contenuto della Catechesi del Pontefice tenuta in Vaticano nell'Aula Paolo VI verte su questa contrapposizione. Chi ha fede si fida di Dio ma sovente di fronte alle difficoltà della vita l'uomo sente il bisogno di certezze diverse e pensa di poterle trovare nelle ideologie con la loro pretesa di assoluto nelle ricchezze nel potere nel successo nella vanità nella bellezza fisica e nella salute tutti inganni che confondono la mente e il cuore e che invece di favorire la vita conducono alla morte. Fa dolore all'anima quello che una volta anni fa ho sentito nell'altra Diocesi una donna brava donna molto bella molto bella e si vantabba della bellezza commentava come se fosse naturale e si ho dovuto avortire perché la mia figura è molto importante così questi sono gli idoli e ti portano sulla strada sbagliata e non ti danno felicità. La speranza cristiana ha concluso il pontefice è fondata sul Dio vivo e vero che per gli uomini è nato da Maria è morto sulla croce ed è risorto nella gloria. E in questo Dio noi abbiamo speranza e questo Dio che non è un idolo non delude mai. Al termine dell'udienza il Papa ha voluto ribadire che i biglietti per partecipare all'incontro sono gratuiti risulta però che alcuni truffatori facciano pagare i biglietti per entrare. Questo è gratuito qui si viene senza pagare perché questa è casa di tutti. Questa è l'ultima settimana in Diocesi per Monsignor Calogero Marino che come è noto domenica prossima farà l'ingresso ufficiale nella Diocesi di Savona. Tra l'altro proprio questa settimana Don Gero sta conducendo la rubrica La Parola del Signore per la presentazione del Vangelo del giorno successivo. Noi andiamo a conoscere meglio la Diocesi di Savona che avrà che ha una forte connotazione mariana tant'è vero che per l'ingresso di Don Gero Marino è stato scelto di fare una tappa anticipata al Santuario di Nostra Signora della Misericordia. È forte la tradizione mariana a Savona. La Diocesi venera Nostra Signora della Misericordia un riferimento che Monsignor Gero Marino non ha mancato di sottolineare e al Santuario dedicato alla patrona della città il Neovescovo si recherà in visita domenica mattina prima ancora dell'ingresso ufficiale dopo la visita di Benedetto XVI è stato proclamato Santuario di tutte le confraternite d'Italia la Vergine è apparsa nella Valle delle Timbro il 18 marzo 1536 mentre un umile contadino è nella sua vigna a rincalzare dei filari della vite vede un grande fulgore cade per terra quasi tramortito e sento una voce che dice levati alzati e non dubitare che io sono Maria Vergine dice misericordia e non giustizia cioè non vendichiamoci stiamo in pace anche se ci sono stati questi sascorsi di guerra bisogna adesso recuperare la misericordia la Madonna della misericordia l'apparizione avviene appunto in un momento delicato per Savona la città medievale è stata distrutta da poco dai genovesi approfittando della guerra che opponeva Francesco I a Carlo V Genova rase al suolo la rocca medievale quella dove oggi sorge il prima mar e il 1528 la guerra distrugge opere ed edifici storici come la vecchia cattedrale Savona alla fine Cinquecenti inizio Seicento come moto anche di orgoglio di ritrovata indipendenza dice cosa c'è di più bello che costruirci una nuova cattedrale più bella magari di quella di prima più bella non era possibile perché questa era picco sul mare era meravigliosa però alcuni reperti della vecchia cattedrale sono stati trasportati nella nuova Savona è anche città di papi almeno due i più importanti Giulio II e Sisto IV quest'ultimo in particolare fece costruire una cappella dedicata ai suoi genitori la cappella Sistina appunto di Savona prende lo stesso nome della cappella Sistina di Roma perché è lo stesso papa che fa costruire anche la cappella Sistina di Roma vedete in realtà un ambiente non rinascimentale ma rococò perché nel Settecento è stata completamente rivisitata da Francesco Maria della Rovere che era un discendente ma sotto tutto quello che voi vedete si potrebbe ancora vedere la cappella Sistina rinascimentale proprio quella commissionata da Sisto IV dopo la pausa natalizia è tornato il cittadino il settimanale cattolico dell'archidiocesi di Genova vediamo insieme la prima pagina che ci riporta al tedeum di fine anno la chiesa e la città nel 2016 hanno segnato il congresso eucalistico ora si attende il papa poi accanto vediamo la lettera del cardinale Angelo Bagnasco ai genitori scegliete l'ora di religione per i vostri figli tema che approfondiremo la prossima settimana e poi i bimbi in prima fila alla marcia della pace a seguire la festa dei popoli nel segno dell'accoglienza in fondo alla pagina una riflessione del vescovo ausiliare Monsignore Nicolò Anselmi sul Natale la preghiera efficace e medicina dello spirito e ancora il programma per la prossima settimana con il dialogo tra ebrei e cristiani e la settimana ecumenica e a Genova è tornato a fare il parroco Dona Francesco Fulli d'ora grossa dopo quattro anni di missioni a Cuba il sacerdote da poco più di un mese è alla guida della popolosa parrocchia della provvidenza nel quartiere di Oregina questa sera sarà protagonista della rubrica Missione Mondo in onda dopo il telegiornale ecco un'anticipazione è tornato a Genova da poco più di un mese Don Francesco d'ora grossa è parroco di Nostra Signora della Providenza a Oregina ma sulle spalle è ancora la polvere dei barios di Cuba e nei bagagli il ricordo di quattro anni di missione dal 2012 al 2016 Don Fulli come lo chiamano in molti ha guidato la parrocchia di Speranza un paese di 15.000 abitanti a diversi chilometri di distanza da Santo Domingo sede della missione interdiocesana Ligure che accomuna Chiavari Genova e Savona una parrocchia di 25.000 abitanti una parrocchia lunga 25 chilometri e larga parecchio in mezzo alle canne da zucchero in mezzo alle coltivazioni con tantissimi campesinos una parrocchia che era da alcuni anni come dire scoperta e da molti anni con un avvicendamento di preti uno dietro l'altro senza una grande continuità il compito di Don Francesco d'Ora Grossa è stato quello di riallacciare i fili della comunità con l'ascolto con l'essere presente e a poco a poco con l'uscire dai confini per fondare nuove comunità cattoliche Cuba sappiamo che ha molti problemi di trasporto la gente non si può muovere facilmente quindi è la chiesa che va va in mezzo ai campi va in mezzo a posti che sarebbero sperduti e bussa le porte per vedere se ci sono dei cristiani dei cattolici che hanno voglia di ascoltare la parola di Dio e che hanno voglia di riunirsi di incontrarsi nella puntata di questa sera di Missione Mondo il sacerdote disegna una Cuba che si è dimenticata le sue radici cristiane gli ultimi 60 anni hanno offuscato una base che pure sopravvive abbiamo fatto delle esperienze di questo tipo padre non andiamo là in questo barrio in questo paesino perché lì non ci sono cattolici non ce ne sono sono tutti di altre chiese ma beh però andiamo andiamo a bussare le porte andiamo a vedere se è vero o non è vero questo e misteriosamente tutti si dichiaravano cattolici tutti si dichiaravano amanti della virgen della caridade e sono fiorite 12 comunità che sono state una cosa bellissima sempre per la nostra programmazione questa sera si apre un nuovo ciclo della rubrica conosciamo la Bibbia condotta dalla biblista don Claudio Doglio ciclo incentrato sul Vangelo di Giovanni questa sera il titolo Un Vangelo Simbolico e ora veniamo all'appuntamento annuale con il concorso dei mini presepi che si realizza a Chiavari al Santuario di Sant'Antonio promosso da padre Costanzo Milesi quest'anno ha vinto una giovane chiavalese Andrea Monti che nella vita fa il farmacista e che ha realizzato il suo presepe utilizzando tante piccole capsule di medicinali Come è nata l'idea di realizzare un presepe con dei farmaci? Beh ovviamente l'idea mi è venuta stando in farmacia che è il mio lavoro quindi stando tutto il giorno a contatto con i farmaci e vedendo che ci sono capsule di diverso colore mi è venuto in mente di poter fare un presepe tutto rivestito di capsule ovviamente con diversi colori e da poter fare un accostamento particolare Come è stato costruito il presepe quindi? Sotto c'è una base in legno e poi è stata fatta la base in colla per poter rivestire e incollare tutte le varie capsule Quanto tempo hai lavorato per questo presepe? Io ho iniziato ai primi di settembre e a metà novembre avevo finito quindi un paio di mesi ci sono voluti Ecco al di là della tecnica dove hai voluto rappresentare proprio la natività? Ma senz'altro abitando a Chiavari l'idea del portico l'ho voluta riproporre proprio in questa piazza con il porticato in modo tale da dare anche proprio un senso al fatto che sono di Chiavari quindi conosciuta come città dei portici mi sembrava bello riproporlo anche nel mini presepio E la prima volta che partecipi? No questo è il terzo anno consecutivo avevo già partecipato altri due anni e poi avevo partecipato anche quando ero un po' più piccolo con un mio amico e tra l'altro anche in quell'occasione avevamo vinto nella nostra categoria dei ragazzi complimenti quindi al giovane Andrea Monti che ha ricevuto la passione per il presepe da suo papà Emilio il compianto Emilio Monti insegnante di arte va avanti il programma interregionale marittimo Italia-Francia 2014-2020 che prevede 36 progetti per i quali sono in arrivo 15 milioni di euro è interessata anche la Liguria che per 10 progetti sarà capofila le altre regioni coinvolte sono la Provenza Costa Azzurra e la Corsica in Francia la Sardegna e la Toscana in Italia i progetti riguardano lo sviluppo economico gli incubatori di imprese la mobilità il turismo e la cultura e ancora per la cultura preziose opere della civiltà a Sira saranno esposte a Genova nel Museo di Archeologia a Ligure sono bassorilievi che facevano parte di alcuni palazzi recentemente distrutti dai fanatici guerriglieri in Iraq in particolare dei palazzi a Nimrude e a Khorsabad gli jihadisti hanno compiuto un vero e proprio attentato all'identità culturale di interi territori l'esposizione sarà inaugurata al Museo di Archeologia a Ligure venerdì prossimo 13 gennaio alle ore 15 e 30 i tre bassorilievi rimarranno in mostra sino al 18 giugno le tre lastre a Sire furono donate all'Università di Genova nel 1860 dalla missionario domenicano Luigi De Negri di Montalde che viaggiò a lungo in Oriente e adesso per la giornata di domani vediamo quali sono gli appuntamenti in agenda con Emanuela Castello appuntamenti in programma per giovedì 12 gennaio ultimo open day per l'istituto comprensivo di Santa Margherita Ligure dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 15 sarà possibile visitare la scuola dell'infanzia di San Lorenzo della Costa mentre dalle 14.30 alle 16.30 porta aperta l'associazione italo-britannica propone una conversazione su un tema di attualità il premio Nobel per la letteratura assegnata a Bob Dylan il relatore sarà Dodi Crateri l'appuntamento è alle 17 alla Società Economica di Chiavari fino al 2 febbraio è possibile visitare il presepe allestito nei locali della parrocchia di Santa Sabina a Trigoso il presepe è aperto ogni pomeriggio dalle 15 alle 17 il centro di educazione ambientale del Parco dell'Aveto propone per sabato 14 gennaio una escursione dalle casermette del Penna a Moglia Negretta attraverso la foresta il punto di ritrovo è alle 9 di fronte alla sede del Parco a Rezzoaglio prenotazioni entro venerdì allo 0185 34 33 70 ancora alcuni aggiornamenti nella tarda mattinata a Zoagli i carabinieri hanno sorpreso e bloccato due sconosciuti mentre portavano via dalle partinenze di un'abitazione nella via Oreglia un'anfora e un'acqua santiera i due sono stati portati negli uffici e identificati sono due genovesi rispettivamente di 45 e di 42 anni entrambi gravati da precedenti di polizia sono stati quindi arrestati per furto aggravato in abitazione in concorso la refurtiva della valore di circa 700 euro è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario per la viabilità sarà in vigore da domani il limite di velocità di 50 km orari lungo un tratto della strada provinciale 19 di Lumarzo di circa un chilometro che va dalla fine del centro abitato di Lumarzo sino al termine della strada e che passa all'esterno dei centri abitati dei comuni di Lumarzo e di Uscio e poi per il prossimo fine settimana ci saranno importanti modifiche alla viabilità a Chiavari per la tradizionale Fiera di Sant'Antonio molte entreranno in vigore dalle 8 di venerdì 13 gennaio e resteranno vigenti sino a mezzanotte di domenica 15 gennaio in particolare segnaliamo i doppi sensi di marcia nella carreggiata di Levante di Viare Casman in Corso Lavagna e in Via Fabio Filzi poi ci sono altri provvedimenti che scatteranno nella serata di venerdì con inizio alle ore 20 ma nei telegiornali di domani vi daremo informazioni più dettagliate siamo giunti così al termine di questa edizione della telegiornale serale tra poco le nostre rubriche incominciando da Missione Mondo l'informazione tornerà domani con il TG13 a partire dalle ore 12.45 vi ricordiamo alle ore 7.30 il buongiorno di Teleradiopace con Marco Revello a tutti grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata a tutti grazie